Eder. Mech. Pallister. Proseguono le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto lo scorso 3 ottobre nel garage condominiale di Via del Ciclamino, dove la donna è stata brutalmente assassinata con 29 coltellate. Nei prossimi giorni, la questura di Rimini prevede di convocare potenziali testimoni, o persone che potrebbero offrire informazioni cruciali, per ricostruire le ultime ore di vita della donna. Attualmente, l'unico sospettato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati è Luis Da Silva, vicino di casa della 78N. Molto probabilmente le persone che saranno ascoltate sono quei condomini che nei mesi scorsi hanno testimoniato di aver visto Luis Manuela parlare spesso con un uomo di colore, hanno visto Loris, insomma tutte persone sostanzialmente vicine al palazzo e al terzo piano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Edel Metallica!